Ciao amici sportivi e benvenuti qui sul secondo canale. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo che questo video è in collaborazione con OneFootball, la migliore applicazione in assoluto per quanto riguarda le news e le notizie sportive, che trovate come sempre qui sotto in descrizione. Quindi mi raccomando ragazzi, scaricate la miglior app sulle news del calcio in descrizione. Veniamo a noi, veniamo al video di oggi, che non è altro che un continuum del video di ieri sera riguardante il Milan. In tanti ieri mi avete scritto, ma Papiros, ma se sei tifoso del Milan, perché ti sei arrabbiato così tanto? Forse magari dettato anche dal fatto che avessi la maglietta rossonera. No, non sono assolutamente tifoso del Milan, lo sapete, a me non interessa nulla né del Milan né dell'Inter, né della Roma né della Lazio, non interessa nulla di queste squadre, se non del Parma, la squadra appunto che tifo, ovviamente, e del Napoli, la squadra che simpatizzo. A me frega relativamente tanto di quelle due, ma in Europa, ovviamente, io, tra una squadra greca e una squadra italiana, io ti puoi fare la squadra italiana, che essa sia il Milan, l'Inter, poi sia l'altra squadra, perché non c'è la rivalità col Parma, quindi a me va bene così, ok? E quindi a me è dato molto fastidio, perché mi sono messo nei panni di un tifoso del Milan, e ho detto, ma come si fa a essere buttati fuori da una competizione europea come l'Europa League, a causa di un rigore inesistente, un rigore assurdo, veramente allucinante, senza la VAR è normale che ti diano rigori così incredibili, perché l'Europa League è l'unica competizione dove ancora non c'è la VAR, ok? E vabbè, il rigore è ok, ma poi, perdite di tempo continue, continue, io veramente, cose che in tutta la mia carriera di osservatore di calcio non avevo mai visto, va bene il pallone in campo, li avevamo visti con Frosinone Palermo, quindi eravamo abituati da questo punto di vista, forse quelli della Grecia, i greci avevano visto cosa avevamo fatto noi in Serie B, hanno detto, perché non lo replichiamo anche noi? E qui lì, l'abbiamo visto una volta, lo vediamo anche la seconda volta, magari non ci stupiamo più di tanto, ma ragazzi addirittura il portiere con i crampi, cioè io veramente, il portiere con i crampi no raga, no, non riesco, non riesco, non riesco, cioè per me è veramente assurdo, è tutto assurdo, il portiere con i crampi io non l'avevo mai visto, è una barzelletta il portiere con i crampi, è una barzelletta, per di più l'invasione di campo da parte di un bambino, l'invasione di campo, cioè questi per perdere tempo hanno preso un bambino e l'hanno lanciato in mezzo al campo, cioè ma come è possibile l'invasione di campo di un bambino? Ma di cosa stiamo parlando? E allora, è per questo motivo che io sono pienamente d'accordo al 100% con Daniele Brogna, non so se avete visto il suo video di ieri sera su sfogo, dopo il post partito appunto, su sfogo sulla partita, e poi ho detto una cosa sacrosanta, e cioè bisognerebbe inserire all'interno del mondo del calcio quello che è il tempo effettivo del basket. Cosa succede nel basket? Nel basket tu hai 15 minuti di partita, non lo so, però c'hai tipo 4 tempi da 15, credo, una cosa del genere, e tu giochi effettivamente quei 15 minuti, cioè se la palla esce, se c'è un fallo, se c'è qualche timer comunque che blocca la partita, c'è l'arbitro, non so che cacchio ho detto prima, comunque, c'è l'arbitro che stoppa il timer, e se la palla è uscita, l'arbitro stoppa il timer, cioè non è che continua e quindi dà il minuto di recupero, no, tu giochi 15 minuti, ma sono 15 minuti effettivo di gioco, 15 minuti di gioco effettivo, se la palla è uscita non stai giocando, stoppi il timer, la palla si rimette in gioco, riattivi il timer. Ed è una cosa che nel calcio nel 2019 è una cosa scontata che ci debba essere, tu hai già preso, la tecnologia del goal line technology, appunto, hai preso la varra, da altri sport l'hai preso, non è che l'hai inventato tu, l'hai presi da altri sport, perché non inserire pure questo che è la base, la base veramente di uno sport, diciamo, è brutto da dire, uno sport sportivo, però, da caratteristiche sportive e oggettive, cioè, è normale vedere in campo delle grandi perdite di tempo, dei giocatori che si lanciano per terra, manco fossero femminucce e fossero stati sparati con un cecchino nelle ginocchia, oppure vedere dei portieri, appunto, coi crampi, perdite di tempo lanciando i palloni in campo e cose di questo tipo, è normale, perché in questo momento non c'è il tempo effettivo nel calcio, c'è il tempo, finché l'arbitro dice che la partita si deve giocare, si gioca, poi se l'arbitro dice, ho dato 4 minuti di recupero, anche se quei 4 minuti se ne sono giocati 2, io ne ho dati 4, ma siamo a posto così. Finché c'è questo, la gente cerca di perdere tempo finché l'arbitro non ha fischiato. Ma se ci fosse, ragazzi, il tempo effettivo in cui l'arbitro stoppa nel momento in cui tu ti butti per terra facendo finta le veri crampi, se ci fosse sta cosa, ragazzi, vedrete che ci sarebbero tantissimi giocatori in meno per terra, ma tanti, ma voi non avete idea di quanti in meno per terra che fanno finta, ma tantissimi, maggiormente quando magari la squadra cerca di perdere tempo con, so, palloni lanciati fuori, questi palloni che vengono appunto lanciati dai raccattapalli in campo, tutte cose che sono il male di questo sport, il marcio di questo sport. Cose che io, ragazzi, schifo, anche se le fa la mia squadra. Mi ricordo qualche tempo fa l'aveva fatto Sepe in un calcio d'angolo, non fece battere un calcio d'angolo lanciando il pallone in campo, ecco, ve lo ridico, quella è una cosa che mi ha fatto schifo, è una cosa che mi ha fatto schifo, le odio queste perdere di tempo, non hanno senso. Il bello dello sport, appunto, è che c'è questa rivalità, c'è questo scontro tra due squadre, si deve vedere chi è che riesce a vincere, non è per forza deve essere la più forte a vincere, appunto deve essere uno scontro e vediamo in 90 minuti chi è che riesce a segnare più gol. Ma se tu inizi a perdere tempo e in 90 minuti diventano magari 80 effettivi di gioco, 75, allora io rivoglio che 15 minuti di gioco effettivo, perché non ci sono stati 15 minuti di gioco effettivo, c'è qualcosa che non va. Io inserirei, dopo la VAR, dopo il discorso VAR, eccetera, io inserirei il tempo effettivo nel calcio. Non so voi cosa ne pensate a riguardo, è una mia convinzione, mi ha convinto anche Brogna quando l'ha detto, sono convinto che è una cosa che potrebbe funzionare, ci potrebbe stare tranquillamente e cambierebbe il calcio da così a così, ragazzi, da così a così cambierebbe il calcio. Fatemi sapere in un commento qui sotto voi cosa ne pensate a riguardo, se lo inserireste o non lo inserireste, nel caso magari non so dove sarà la scheda, comunque avrò messo una scheda appunto con il sondaggio, magari ditemelo in un commento qua sotto. Grazie mille di aver visto questo video, un saluto, ciao da Papiros. Grazie.